Ciao ragazze, nuovo video! Oggi volevo mostrarvi un pacco che mi è arrivato il pacco è questo qui mi è arrivato dall'azienda Erba Vita col quale sto collaborando e appunto volevo mostrarvi cosa mi hanno gentilmente mandato da provare allora dentro la scatola c'è tutte queste cosine qua ed era piena 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 di questi super super bolle per non fare appunto danneggiare i prodotti durante il viaggio all'interno trovavamo devo dire trovavamo perché una l'ho già bevuta cioè la sto già bevendo comunque tre Energy Drink, questi qua la lattina è molto simile a quelle che si trovano in commercio quindi Coca Cola, Fanta, queste cose qua verde, un verde è molto acceso proprio un verde più bello, molto carino con la scritta GoFarm, Green Energy Drink, Natural Power by Erba Vita questa appunto è la lattina e all'interno troviamo aspettate che trovo la scritta italiana piacevole dissettante con estratti vegetali di ginseng, matè, radiola, tè verde e guaranà sì, guaranà perché c'è l'accento comunque super biologica perché appunto l'azienda Erba Vita è un'azienda biologica e devo dire che appena l'ho aperto ho visto l'Energy Drink ho detto fammelo subito assaggiare uno non è male devo dire non è male ma ve ne parlerò più avanti dopo che comunque li avrò bevuti tutti quindi potrò farvi una recensione giusta perché adesso credo ne ho bevuti due sorsi non posso farvela ben dettagliata poi troviamo quest'altro prodotto sollievo veni spray ad intenso effetto rinfrescante per il benessere delle gambe a base di menta, vite rossa, rusco e ipocastano arricchito con bliofanoide troxerutina sempre appunto di Erba Vita questa è la scatola la confezione adesso ve lo apro e lo spray si presenta in questo modo packaging completamente bianco con la scritta sullevo venisi in rosso e appunto qua abbiamo lo spray devo ancora provare tutto perché appunto mi è arrivato pochissimo tempo fa pochissimi minuti fa e ho solo potuto provare l'Energy Drink perché mi ispirava al quanto poi altro prodottino è questo qui che si chiama è della linea donna Dolmestrutto per il ciclo femminile sono delle gocce di integratori alimentari con agno castano, angelica cinese, salice bianco e partenio questa appunto è la scatolina e il prodotto si presenta in questo modo qui comunque è parecchio pieno adesso vediamo quanti ml sono 50 ml di prodotto quindi per un bel po' di cicli mestruali penso che possa andare adesso non avendolo mai provato non so dirvi non ho neanche letto stupidamente ecco si consiglia di assumere da 20 a 50 gocce di rite in acqua tre volte al giorno per appunto i giorni del ciclo mestruale e quindi secondo me possono può durare abbastanza questo prodotto poi ultima cosa sono questi opuscoli qui ce ne sono veramente tanti che appunto sono bentornata leggernezza sollievo Venice la soluzione naturale completa per il benessere delle gambe appunto spiega un po' i vari prodotti come vanno utilizzati penso perché sinceramente non ho letto si spiega i vari prodotti e come si può dare sollievo appunto alle gambe qualche opuscolo lo darò sicuramente alle mie amiche e niente questo è tutto ringrazio ancora l'azienda per avermi mandato questi prodottini che sarò felicissima di testare e appena li testarò ovviamente vi farò una recensione approfondita per voi e niente vi mando un super super bacione come sempre noi ci vediamo al prossimo video ciao